Pachino incendia 8 autovetture e 32 anni arrestato dalla Polizia di Stato. Il GIP Tiziana Carruba, accogliendo in pieno la richiesta della Procura della Repubblica di Siracusa, ha emesso una ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di Salvatore Casella, pachinesi di 32 anni, già conosciuta le forze di polizia, ritenuto responsabile dell'incendio toloso di 8 autovetture avvenuto a Pachino la notte del 27 ottobre 2019. Le indagini, coordinate dal sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa, Gaetano Bono, hanno consentito agli uomini del commissariato di Pachino di eseguire la misura a carico dell'uomo per il reato di incendio aggravato. Nella notte del 27 ottobre 2019, alle 4.20, sono state date alle fiamme alcune autovetture parcheggiate lungo Via Nuova e Via Pellegrino Rossi a Pachino. La propagazione delle fiamme ha coinvolto anche quattro abitazioni adiacenti. Il personale del commissariato di Pachino ha avviato le indagini partendo dalla ricostruzione dell'accaduto sulla base delle immagini fornite dai fotogrammi di alcuni impianti di videosorveglianza di abitazioni dislocate nelle immediate vicinanze del luogo interessato dall'evento. Una di queste è risultata particolarmente utile poiché in orario di poco antecedente allo sviluppo delle fiamme ha ripreso un soggetto che a piedi percorreva la Via Nuova dirigendosi verso il luogo dove qualche istante più tardi è stato appiccato il fuoco alla prima autovettura. L'angolazione di un'altra telecamera ha consentito di riprendere lo stesso soggetto che è transitato per strada delle mitrofe puntando poi sulla Via Nuova dove era parcheggiato un furgone Renault a cui è stato appiccato il fuoco. Il tratto di strada in pendenza ha favorito il propagarsi del liquido infiammabile che ha consentito alle fiamme di raggiungere le altre sette autovetture tutte parcheggiate a poca distanza una dall'altra. Il larrogo ha coinvolto anche le facciate di alcune abitazioni rendendo particolarmente ardua l'opera di spegnimento da parte dei vigili del fuoco del distaccamento di Noto. L'attività di indagine svolta dal personale del commissariato di Pachino si è focalizzata sull'immagine che aveva immortalato l'uomo con una bottiglia di plastica parzialmente celata dal giubbotto. L'azione del piromane riconosciuto senza alcun dubbio in Salvatore Casella è ricostruita dagli inquirenti sotto l'aspetto temporale ma anche nel percorso mostrato attraverso le mappe delle vie di questi percorsi lo collocano sul luogo dell'incendio proprio nell'orario in cui l'evento si verifica in assenza di altri soggetti. Il GIP del tribunale di Siracusa in accoglimento della richiesta formulata dalla procura firma del sostituto procuratore Caetano Bona ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere eseguita dal personale del commissariato di Pachino che ha associato Salvatore Casella presso la casa circondariale di Cavadonna.